Salve a tutti ragazzi, sono l'Orkane e vi do il benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi partono le Redman City del club, quindi partiamo con Peps, Peps 83, 88, 83, così già ci mette in difficoltà con il suo nick. Ha giocato queste 15.000 mani a No Limit 2 di People's Poker, bello concentrato, bello potenze, e andiamo a vedere un po' cosa ha combinato il nostro Peps. Sono 15.000 mani, interessante questa chiusura, queste ultime 2.000 mani, sono già andato a vedere il tab session per vedere cosa è accaduto. E' interessante come abbia impostato la linea di gioco, la rossa che scende, certo, vediamo fino a qua, la rossa scende di 2 quadretti, la blu sale di 5 quadretti. Interessanti questi momenti di blu molto stanca, questo è stato l'inizio del mese, questa è stata la chiusura, e qui sono già andato a vedere, ma era diciamo all'inizio per così dire, questi momenti capitano, ma andando a vedere il tab session ho visto delle cose interessanti che adesso andremo a vedere, e anche questa parte finale è molto interessante per come Hero ha impostato la linea di gioco. Se noi pensiamo comunque a queste mani qua, perdiamo 2 di rossa, 1 e mezzo se partiamo da qui, e vinciamo 5 di blu, sono ottimi segnali di una linea di gioco più matura, più aggressiva, più, diciamo, impostata sugli avversari. Ho visto però delle linee di gioco non ottimali, soprattutto andando a vedere il tab session. Se guardiamo infatti le ultime mani, abbiamo sessioni molto lunghe, 2 ore, 3 ore, giusto per raccogliere mani per mandarle per la ridda, suppongo, e dove abbiamo impostato una linea un po' più loose del solito, un po' più aggressiva del solito preflop, più passiva postflop, con un alto went to showdown, che va diciamo a creare una morte sportiva nella linea blu. Ricordiamoci che la linea blu può in parte, buona parte a volte, dipendere dalla run, nel senso ci scoppiettano, quindi il nostro showdown va a farsi friggere, ma a volte siamo noi ad essere, chiamare troppo, troppo passivi, un po' di tilt, un po' di overplaying, bisogna andare a capire. Questo è per capire che in questa sessione abbiamo tenuto un average player alto, per cui abbiamo cambiato poche tavoli, abbiamo tenuto un aggression factor basso, per cui abbiamo chiamato spesso, è l'unica argomentazione che si può avere, un went to showdown particolarmente alto, una linea da sceriffo. Andando a vedere poi nelle sessioni negative, di nuovo c'è qualche sessione particolarmente lunga, 100-100, di nuovo con un VPP preflop preso abbastanza alto, aggressività bassa e went to showdown relativamente alto. Almeno in queste sessioni l'avverage player è 3, per cui Hero ha cambiato un po' i tavoli e giocato un po' gli heads up. Stesso discorso anche nella fase iniziale, dove per carità sono poche mani e è naturale comunque nelle prime mani raccolte che capitano di queste cose, non ci preoccupiamo troppo. Andiamo a vedere comunque un po' di cose assieme, partiamo dalle nostre statistiche generali, che fa sempre comodo, perdiamo un po' di linea di 3-bet, 3-betiamo decisamente poco, ma 5 non è così male per questo stake, ma turno al 7 forse è meglio, la 4-bet è migliorata rispetto a prima, il nostro squeeze è ancora bassetto, dobbiamo cercare di avere un po' di value allargato, un po' di bluff quando l'origine raiser è sensata, eccetera, proprio perché è uno spot dove mano a mano che saliamo prenderemo sempre sempre più value e è buona norma iniziare ad abituarsi a migliorarsi sempre già da questi stake. Ok, la linea di difesa contro 3-bet, difendiamo lo stesso range dalle varie posizioni, possiamo allargare un po' i nostri range di steal, ma sono piuttosto buoni. Attenzione alla linea di blind vs blind, foldiamo un po' troppo il BB e andando a vedere le stazioni specifiche, poi ho visto che non vinciamo particolarmente bene, ma lo andremo a vedere. Ok, la linea di difesa del buio grande contro lo small, dove non tribetiamo troppo di più, cioè 9 contro 5 è un po' tanto, considerando che giochiamo in posizione contro un giocatore fuori posizione, è naturale chiamare un po' di più e tribetare un po' di meno proprio per sfruttare la nostra forza sia di range che di posizione, che di lettura. Comunque va bene perché difendiamo almeno un terzo dei nostri BB, li stiamo difendendo, questo è un buon segno. Ben bilanciata la linea di cibette, non ragioniamo troppo su questo river perché su così poche mani 69 è un numero talmente bello da vedere che è difficile argomentare al contrario, ma perché su così poche mani? Se andiamo a vedere la river cibette nei tribetati sono l'8% su 25 casistiche e no, nella raise cibette abbiamo talmente poche mani che è inutile ragionarci troppo. Nella linea di contro cibette può andare bene foldare un po' di più flop piuttosto che turn, visto il field che stiamo affrontando. Attenzione nei tribetati che difendiamo tanto, ma andando a vedere le linee di gioco specifico pass flop, io l'ho fatto un gran buon lavoro. Un po' passivi in generale, chiamando, mi sanno un po' rivalue flop e turn, dobbiamo fare anche un po' attenzione, qua la river bet è relativamente alta, ma attenzione perché c'è un want to show down alto, a volte dovremmo avere una linea un po' più esploitativa, attenzione alla dunk bet che è particolarmente alta, accompagnata dal nostro want to show down alto fuori posizione, è una di quelle cose dove stiamo perdendo un po' di soldini. Andiamo a vedere quindi il nostro tab position, facciamo un misto tra francese e veneto. Allora, dicevo, possiamo aumentare un po' i nostri range di still, ma vanno comunque piuttosto bene, il nostro call call è relativamente alto e attenzione anche perché filtrando poi ho visto che non c'è proprio positività, per così dire, ma è abbastanza buono perché almeno è più basso da small con una linea un po' più schillata. Siamo anche piuttosto positivi da small, questa è una cosa molto molto buona, molto buona, molto casuale anche vi dirò, però anche a me è capitato di, in 40-50 mila mani, di avere i bui positivi, sarà che gioco anche zap, probabilmente. La linea di difesa contro 3 bet è piuttosto buona, stessa parte di range, ma di un range diverso, quindi 34, 35, 35, è la stessa, praticamente la stessa parte di range, ma ricordiamoci che il nostro range cambia molto, tutti si apriamo 18, da botta ne apriamo 30 e difendiamo comunque un terzo del range, è una buona cosa, difficilmente esploitabile. Possiamo sicuramente creare una linea migliore su certi giocatori, ma l'impostazione di base mi piace assai. Ok la linea di c-bet, che è piuttosto balanced, 53-55, e va bene, attenzione solo a non missare value, perché a questi stake è naturale avere anche una flop c-bet un po' più alta, ma ci mancherebbe solo che volessi tenere come campanello un giocatore che mi c-bet così bilanciato. Attenzione alla Grasher, dove abbiamo praticamente la stessa linea turn e river, è naturale a questi stake avere un po' di più flop, un po' meno turn, un po' meno river, qualcosa per capirci attorno a, che ne so, 30, 22, 17, per dire dei numeri abbastanza random, ma per dare un'idea della proporzione di questa aggressività, perché la nostra frequency andrà a cogliere gli errori dei nostri avversari, quindi dovremmo pensare che se i nostri avversari fanno molti errori per flop e flop, è naturale che la nostra linea aggressiva tenda a concentrarsi in questi spot, ok? Sulla river call efficiency, attenzione a questo one two showdown, molto alto, molto dappertutto, superiore al 30, 36, 33 e soprattutto fuori posizione 32, 33, con un basso win two showdown, soprattutto da BB, dove è la posizione dove perdiamo un po' di più. Andiamo a applicare qualche filtrino, giusto per farci un cannonciino, no ovviamente sto scherzando, i filtrini non si usano per queste cose, con esattamente due giocatori, la nostra linea di gioco di EZAP, molto buona in generale, 65, 65, 30, 15, rispetto a molti altri giocatori è un'ottima linea, perdiamo un paio di vain, ci può stare, andremo ad analizzare con lo student nello specifico un po' di gioco EZAP, perché vogliamo migliorarci anche in questo, è uno spot dove possiamo prendere veramente tanto value, ma non è così preoccupante, sarebbe da vedere un po' di size, un po' di linee specifiche, ma come idea è un range piuttosto, piuttosto buono, quindi buon, buone EZAP, e vedo anche che ha mille mani su 15.000, per cui tende a partire da tavoli vuoti, che è un'ottima cosa, un attimo solo che non so più che filtro ho messo, per cui fatemeli pulire un attimo, ok, le avevamo già puliti, andiamo a vedere togliendo il nostro top range, perché ci sposta troppo le stats, KQ non è super top range, togliamo solo le coppie, no, 87, tu puoi rimanere, mio caro connectors, togliamo queste parti di range, proviamo a vedere la linea passiva, VPP true, prefer o praise falso, la nostra linea quando non siamo gli aggressori, le BB perdiamo, e come idea dobbiamo pensare che foldando tutto avremmo fatto meno 100 BB100, queste sono cose interessanti, ma va bene difendere, dobbiamo solo impostare un po' meglio, forse la linea post flop, vediamo la nostra river call, è anche abbastanza alta, il win to showdown è molto basso, il win to showdown è relativamente alto, anche se il campione è veramente ridotto, attenzione alle mani in posizioni, dove se decidiamo di chiamare, dobbiamo fare profit, anche se le mani sono poche, proprio perché avendo noi investito zero, se chiamiamo, lo facciamo solo e unicamente per fare soldi, non è che dobbiamo difendere qualcosa, quindi attenzione alle motivazioni in quello spot, il nostro preflop is true invece, con la stessa parte di range, siamo positivi, va bene, in event under the gun, ma non è che ci cambi molto questa cosa, abbiamo, ok, una turn particolarmente alta, ma le mani sono veramente poche, attenzione che siamo positivi da botte nel cutoff, potremmo esserlo di più, anche se vedo che le V adjusted abbastanza alte, in realtà dovremmo avere 60 BB100 e 80 BB100 da qua, ok, mi rimangio quello che ha detto, ma possiamo avere probabilmente un po' di range aggiuntivo, qui abbiamo perso abbastanza V, già che abbiamo questo filtro di carte, andiamo a vedere anche il facing preflop tribet, cioè quando abbiamo affrontato una tribet, e abbiamo un EV BB100 di meno 150, se chiaramente, foldando tutto, avremmo fatto meno 300 BB100, e aver difeso a meno 150 è un buon segnale, un gran buon segnale, andiamo a vedere quindi, quando invece di affrontare la tribet, proprio decidiamo di chiamarla, quindi face, con il preflop tribet true, quando invece difendiamo, e difendiamo positivi, quindi è un ottimo segno da tutte le posizioni, attenzione solo a questa under the gun, ma su 10 mani, credo che lasci il tempo, lasciare il tempo che si trova, ma mi sembra un po' uno spreco, cos'altro dobbiamo analizzare, abbiamo visto le zappo, la linea posizionale, il folder, la restilla, abbiamo visto, la linea di blind vs blind è stata più o meno vista, le zappo ok, andiamo a vedere un po' di mani specifiche, direi, visto che mi sono preso la briga di marcare qualche mano, partiamo con questo 7-7 UTG, apriamo 3x, possiamo anche voler aprire 4x, 5x forse, forse è eccessivo, ma in un tavolo del genere c'è Zio Pino, un 45-5, vecchia conoscenza, non che sia un giocatore club, ma lo si trova spesso, abbiamo 7600 mani sul nostro Zio Pino, abbiamo un 60-10, un 72-5, un mezzo abc 30, 10, 20, un po' over player che over fold, ok, classici giocatori che provano la room, e Temo non gli andrà proprio benissimo, per come sta giocando, ma in bocca al lupo, al lupo anche a caspasi, comunque potremmo aumentare un po' la nostra size, col nostro intero range, non è che dobbiamo aprire 3x con 4x4 e 10x con asso asso, anche se in certo caso potremmo volerlo fare, a seconda dei giocatori, comunque come immaginavamo, ci chiama più o meno tutto il mondo, su questo board cecchiamo, certo, su questo turn miglioriamo, mezzo pot da, come ti chiami tu, Poker, Poker Bon, fra 1980, ci punta mezzo con queste frequenze, bassissima donk, bassa donk, il suo 8 di donk bet, non beta su questo board, attenzione che potrebbe non bettare draw, potrebbe non avere mani come asso 7, 10x7, 9x7, 10x8, sì, forse come bottom range, certo, ovviamente, molte mani che noi battiamo, ma, difficilmente questo giocatore betta un board, per cui, attenzione, è un board, betta un draw, attenzione sui range, ma siamo ancora verosimilmente avanti, potremmo voler estrarre value su questo turn, risando, anche perché, Zio Pino, la nostra sinistra, è talmente passivo, un 8x, un 6x, un 10x, due carte qua, a fiori a caso, potrebbe averle abbastanza spesso, e, dobbiamo fare attenzione a non lasciare value a Zio Pino, il cui errore è chiamare troppo, e se noi gli correggiamo l'errore, chiamando, come abbiamo fatto, perdiamo value contro Poker, bro, e Poker Bon, e facciamo fatica anche a crearci delle odds molto buone sui river, e regaliamo equity a Zio, perché Zio Pino qua chiama con il 19% di partecipazione piatto, e anche una mano come Jack X, ha quelle odds per batterci, Jack X, 7x, 8x, 6x, alcune combo di doppia che possono andare a batterci sui river, comunque chiamiamo solo errore, un indiretto river, più di 100x, noi abbiamo, ok, 110bb, quello che è, più di 100x, da questo profilo di giocatore, 72,5, super passivo, basso fold, super passivo, 1,1, basso a donk, questo 6 è veramente pessimo, perché anche se aveva, avesse avuto veramente un combo draw, qualcosa con 8x e i fiori, o qualcosa di molto forte, e non battiamo praticamente nulla, su questa size dovremo semplicemente foldare, anche perché questo 6 va a chiudere diversi incastri, cioè incastri, diversi draw di Zio Pino, che hanno incastri flop, turn, bilater, river, cala i folli, e qua chiamiamo tutti, comunque come immaginavamo, Poker Bon, non so perché non so dire il suo nome, ci gira, un leggero top range, 4 quinti di scala colore flop, che si trasforma in scala tana, ed è ancora scala river, piuttosto forte come mano, e Zio Pino, come immaginavamo, nel lato passivo, non beta top pair, non beta top pair con 4 quinti, ovviamente river non può più fare niente, se non chiamare, per il tipo di player, attenzione a non giocare la nostra, e a giocare la mano di Poker Bon, potevamo anche risparmiarci, questi due eurilli, che non sarebbe stato male, apriamo 3 per, avremmo potuto fare 4 per, value bettiamo, certo, su questo tipo di board, un giocatore 75-1, che non folda mai, un 50-10-09-1, che non folda mai, basso river bet, basso fold, basso, 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 dobbiamo value bettare tanto, per capirci qua, anche 6-6, si poteva mettere il nostro range di value, e magari non 4-4-5-5, perché bloccheremo molti draw, però, come idea, sbilancieremo molto il nostro range di valore, quindi avremo poco bluff, e molto value su questo board, anche giocando fuori posizione, grazie anche alle nostre letture, value bettiamo, chiama un giocatore, raise, flop, c-bet, fra l'altro con una size abbastanza importante, di un giocatore di questo tipo, basta donk, basta aggression, alto fold, giocatore super passivo, giocatore a livello 1, gioca le carte che è in mano, quando si spostano, si mettono a livello 1,5, e ci fanno in mano qualcosa, cosa mai ci farà in mano, il nostro full, come ti chiami, full KK asso-asso, che è una doppia coppia, se è KK asso-asso, però va bene, lui ci farà in mano esattamente quello che abbiamo, asso Q, KQ, un overpair, qualcosa di questo tipo, se veramente ci fa in mano qualcosa, e ci fa una mano specifica, e se ci raise è convinto di batterla, se noi qua abbiamo un range di value molto esteso, perché stiamo value bettando molto, è chiaro che dovremmo difendere qualcosa in più, perché se stiamo value bettando 150 combo, e Villain investe 70 cent, per vissare 40 cent, dovremmo comunque difendere una parte del nostro range, che è abbastanza ampio, ma pensando alla linea di gioco, exploitativa contro questo giocatore, dovremmo foldare ciò che lui ritiene di battere, visto che questo giocatore non bleffa mai, qua invece andiamo a ripusciare, c'è anche un corto nella mano, c'è un abbastanza outs, chiama uno, chiama l'altro, Villain ci gira 3-2, ci sta, cioè ci sta, nel senso è in linea col suo profilo, possiamo prendere sicuramente nota, sulla sua size, RCB, raise, c-bet, flop, RCB può abbastare 4-per, quello che è, con 3-2 su questo board, andiamo a vedere anche cosa aveva Nino, perché è divertente, Nino ci gira asso 8, crede nel cuore delle carte, 3-5 scala, 3-5 colore, non ci stupiamo che le abbia nel range di call, queste mani, perché è per quello che perdono soldi, chiamando, e infatti anche full KKAA, è un giocatore che perde soldi chiamando, quando ci resa attenzione, nota su questo giocatore, e ha anche volontà di foldare questa parte di range, proprio contro di loro, non è che noi foldiamo standard quelle mani, qui facciamo un peccato veniale, completiamo in un multiway, ma è un tavolo estremamente fisci, non è che sia poi così malvagio, ma attenzione, perché come profilo, abbiamo un'alta dong bet, un'alta went to shoot down fuori posizione, e perdiamo soldini in quelli spot, comunque, quindi sono cose su cui ragionare, flopiamo doppia, value bettiamo pot, molto volentieri, value bettiamo ancora turn, molto volentieri, o l'indiretto turn di un 50-10, uno che folda 25-0, aggressività 1, vuol dire che chiama a metà delle volte, nel senso che chiama molto molto spesso, folda 0, le mani sono poche, il profilo è un 50-10-1 che folda il 25, profilo molto passivo, vedo un'alta river bett, sarebbe da avere qualche nota, se su 90 mani gli abbiamo visto il 73 di river bett, avremo qualche nota, questo turn migliora molto il suo range, perché è un giocatore che gioca 50-10, quindi limp colla, cioè limp a preflop, molte mani medio-basse, tende a rilanciare qualche mano, come ha su 10, qualche mano con carta alta, per così dire, per cui in realtà questo è il paradiso della brugola, nel senso che lui è un, chi è che usa le brugole, non so se è il falegname, va anche il falegname, credo posso usare una brugola, ma non così spesso, essendo il paradiso della brugola, è una ferramenta molto fornita, e lui ha voluto una cosa molto specifica, e quindi su questo board, se pensiamo al suo range, può girarsi a su 8, 7-8, 6-8, mani che hanno migliorato TAR, intendo, combo di scale incastro, combo di scale vaghe, come 5-4, tutte mani che lui può avere, che noi non bloccheriamo, e quando il nostro Oppo investe più di 100 BB, per vincere un pot di 30-15 BB, possiamo anche voler foldare, non giochiamo la nostra, giochiamo la sua, Villas quasi gira il suo magico incastro, non ci stupisce affatto che l'abbia giocato così, è in linea col suo profilo, vogliamo prendere nota, si può fare col pot incastro, ma non è da stupirci, IDR, IDT, o l'indiretto TAR, con questo tipo di punto, se questo TAR lo ha migliorato, questo 8 lo ha migliorato, o ci gira una doppia migliore della nostra, a su 8, 7-8, 6-8, per esempio, a scala incastro, se veramente avesse avuto un draw, sarebbe stato un draw della madonna, quindi un draw sacro e divino, con un'altissima equity, su un piatto così piccolo, possiamo anche andare a foldare, apriamo 3x, ok, anche se un tavolo così, forse 4x ci stava, value bettiamo, size che va bene, contro il giocatore che non folda mai TAR, quindi il TAR dovremmo sicuramente value bettare, e non lo facciamo, dovremmo decisamente value bettare, per questo Oppo folda veramente poco, e da una bet verso Smith non altissima, 40% non altissima, è inutile pensare di prendere troppo valido i suoi blef, se ci blefa qualcosa, potrebbe essere un 4-5, magari preso TAR, qualche incastro, qualche draw di quadri ovviamente, e qualche mano che veramente ha, come, che ne so, Jack 10 che bloccheriamo, 6-2 è un po' improbabile, onestamente, però diciamo che prendiamo più soldi dal suo range di call, che dal suo range di bett, comunque un po' betta, e noi chiamiamo solo, senza neanche broccare, poi su questo river c'è colliamo, su non indiretto, capisco che non vogliamo foldare queste mani, ma abbiamo missato value, non value bettando TAR, e non abbiamo creato il piatto migliore possibile, Oppo comunque in questo caso, si gira il suo magico colore, naturale, che al flop ci chiami, con 3 quinti scale, 3 quinti colore, 3 quinti più 3 quinti, ragazzi, fa 6 quinti, 6 quinti è più di 1, è matematica, da no limit 2, suppongo, ma abbiamo missato value TAR, e poi creando un piatto piccolo, siamo andati a committarci river, per carità, la mano era molto forte, ma mi raccomando, giochiamo prima il nostro avversario, che le nostre mani, apriamo 3x, potremmo farlo, ho già detto sulle size, anche perché questi tavoli, sono ben selezionati, un 80-10, un 30-0, un 60-10, e plus play, che non si sa perché fa la spola, tra tutti gli stake, misteri, su questo board, c'è un 1 l'indiretto, di un giocatore, che su 1200 mani, gioca 80-1-1, cioè mai, 0-0-0, 0-9-0-0-0, chiaramente, a 14 ridonk, potrebbe avere anche qualche draw, forse, e se ha qualche draw, immagino abbia, o asso suited, che ci batte, oppure addirittura, qualche super mega, iffanta combo, come 5-3 suited, o 5-7 suited, ma non sono troppo sicuro, con un profilo di questo tipo, dovremmo semplicemente, foldare, perché molto spesso, questo opo ha un 4 in mano, perché nei suoi range, ci sono tutte le carte, e praticamente qua, stiamo accettando un colpo, senza senso, su un piatto piccolissimo, contro un giocatore, estremamente passivo, invece noi difendiamo, Villain ci gira 4-2, non c'è da stupirci, nota su questo giocatore, IDF 100x, 4-2 su un board, 6-4-4, non c'è nessun motivo, qua, di difendere il nostro, KGX suited, su quel board, proprio, non c'è veramente motivo, l'info al mondo intero, non tribettiamo, qua, contro un giocatore, che apre il 50% delle mani, ed è middle stack, dovremo cercare di isolare, a so cui è tutto valo, in questo caso, isolare, broccare per flop, contro un giocatore, middle stack, con un piatto già formatosi, se noi andiamo a chiamare, giocheremo fuori posizione, contro due giocatori passivi, regalando equity a tutti, giocatore che fra l'altro, barella abbastanza, anche pesantemente, quindi in realtà, ci troveremo sempre fuori posizione, check, 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 bet, call, 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 bet, call, 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 da questa posizione, decisamente non otterremo il massimo dei profit, comunque c'è un limpol indiretto, call, creiamo proprio la situazione peggiore del mondo, sappiamo pure che Muro, quando il muro è, insomma questo giocatore, quando l'impusha, ha sempre premium mega hypernazza, a volte qualche copietta, il punto è che abbiamo creato il piatto minuscolo, poi non vogliamo foldare, vabbè, un giocatore gira kkk, l'altro ha su 10, abbiamo perso value contro gemello, 64 gemello, e abbiamo creato una linea addirittura positiva, per questa giocata superficie di muro, che riesce comunque a perdere, ma è naturale, è strano anche che perda così poco su 8000 mani, attenzione a quando programmiamo le nostre linee, qua missiamo value nei tribettati, ed è un nostro leak, anche perché poi sul piatto piccolo, shamala, ci commettiamo, limpa il tavolo intero, siamo fuori posizione, c'è una dunk bet, di un giocatore che è dunk a 20, per carità possiamo ancora essere avanti, chiamiamo, su questo tavolo lo mettiamo, col all in diretto di un 70-10, dovremmo semplicemente foldare, non c'è motivo di chiamare qua, villan gira jack 6, non è colpa sua, anzi direi che lui l'ha fatto la figata, starà saltando sulla sedia, hero qua, fuori posizione con queste mani, forse ha difeso un po' troppo, comunque c'è un rilancio tg, di un giocatore che su 300 mani, gioca il 40% da tutte le posizioni, siamo avanti al range, siamo in posizione, potremmo anche voler isolare, ma ci sono altri due giocatori super passivi dai bui, per cui volendo si può anche voler chiamare, ma contro un giocatore del genere, sbilanciamo pure il nostro value in tribet, isoliamo questo giocatore, per carità, Mr. Lala non giocherà mai contro di noi, avremo già posizione, attenzione solo che se teniamo la mano, multiway contro quattro giocatori, la nostra top pair vale molto molto meno, invece se isoliamo in ez-up, un giocatore come Jan, che apre il 50%, la nostra S9 vale un po' come Assocappa contro magari Alba, quindi vale, ma magari non tantissimo, comunque chiamano tutti, c'è un mini re-raise, cosa vorrà mai dire un mini re-raise in questo spot, comunque certo difendiamo, su questo borcollas c'è la bet, di un giocatore che ci betta il 50%, dopo che ha mini re-raise a top pair, il call, il call chiamiamo, c'è ancora una mini bet, un mini race di uno 0-2-0-7, super attenzione, ma a questo punto noi chiamiamo, e su questo river check, bet mezzo pot, a questo punto chiamiamo re-raise, siamo riusciti alla fine a perdere i milioni, chiamando andiamo a contarle, perché comunque questa è la parte divertente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, con gran coraggio, un giocatore gira campo 8, va bene, ci sta, prenderemo sicuramente note sulle 6 spray, sulla linea di gioco abbastanza rollosa, l'altro giocatore gira 8-2, lol, ci può stare, e noi andiamo a perdere contro queste mani, chiamando 28 volte, pre-flop si potete ribettare, flop davanti a questa donk, si può anche pensare di essere avanti, ma ricordiamoci che aveva mini-raise a topre, tarna, attenzione a uno 0-7 che resa, e guarda caso gira doppia coppia, non è assolutamente un caso, che un giocatore con queste stats giri doppia, attenzione a ciò che abbiamo combinato in quella mano, meditiamo, meditiamo, c'è un rilancio, non tribettiamo un giocatore che folda 0, 100% nei tribettati, 0 pre-flop, apre il 50% delle mani e fa per 2, missiamo value in questo caso, il nostro tribetto è puro value, voglio mettiamo la prima, voglio mettiamo la seconda, non importa molto quello che è accaduto dopo, ma pre-flop abbiamo missato molto value, potevamo commentarci molto prima, con la mano migliore, contro un giocatore agro depolarizzato, che apre il 50% da tutte le posizioni, le altre 50 le chiama, ed è un giocatore abbastanza frequente a tutti gli stake, andiamo a vedere l'ultima mano, ce la possiamo fare, vediamo cosa accade, apriamo, miniz up su jack, veniamo snappati da 992 star, cecchiamo, 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 bet value all indiretto, e a questo punto diciamo, ma sì, tanto ma il che vada smizziamo, per cui perché non mettere 5.000 euro su un pot di 2 euro, no, per dire comunque in questo caso si può tranquillamente foldare, non ho neanche ben capito perché, sì va bene, value a bettari può avere senso, bet versus miss c'è, giocatore semi abbastanza sensato, attenzione a questo spot, qui non ha veramente senso chiamare, perché non capisco cosa potrebbe bleffarci Villan qua, quando chiamiamo, chiamiamo per vincere metà soldi, per cui in realtà metà del piatto che già c'è fra l'altro, quindi andiamo a vincere 15 cent, perdiamo abbastanza volte, Villan ci può girare un 6, due quadri, eccetera, qui potremmo semplicemente foldare e non giocare la nostra, Villan ci gira su 7, poteva giocarle in maniera un po' più aggressiva, forse sì, ma non è il caso, cioè non è il caso di ragionare su 9, 9, 2 star, sicuramente dovremmo pensare che Peps ha giocato la sua e non quella dell'avversario, comunque riassumendo un po' ciò che abbiamo visto in questa lettura, buona linea di Peps, tribetati, forbet, squeeze, attenzione alla linea fuori posizione, la linea di blind versus blind, la linea posizionale di still, la linea di zap, ben sviluppata, ma possiamo sicuramente fare meglio come sempre, buona buona la linea, attenzione a fare sessioni un po' più breve, scegliere meglio i tavoli, non costringersi a giocare, soprattutto se abbiamo dei campanelli di tilt, analizzare, capire cos'è che ci fa triggerare diciamo la nostra linea, perché giochiamo così tanto senza poi alzarci dei tavoli, facciamo una pausa, non siamo qua a produrre rake, le lezioni sono gratis comunque per tutti, anche se fai un euro di rake, caro amico, per cui non ti devi preoccupare, io non sono uno di qui, non sono un vampiro informatico, quindi fai pure un euro di rake in meno, ma divertiti una tonnellata in più, e miglioriamoci sempre, perché il nostro obiettivo ovviamente è le stelle, e se anche sbagliamo, mi raffiniamo sulla luna, poi non so cosa faremo da soli sulla luna, lì probabilmente metteremo dei selfie su Facebook, con una birra, e una foto della luna, dire la mia birra, non so perché sto dicendo queste stupidaggini, probabilmente perché siamo in linea di chiusura, siamo in fase di chiusura di questo filmato, buon lavoro da parte di Peps, se vuole fare delle sessioni, non ha che farlo sapere, Peps è un giocatore al 48% di back, per cui fa solo la read mensile gratuita, ma sa che se vuole fare qualche sessione in più, io sono sempre disponibile, comunque buon lavoro, rispetto alla partenza poi, GG while playing, comunque direi che è ora di chiudere questo filmato, anche perché fra 10 minuti ho coaching, e devo ancora respirare da stamattina, ci vediamo nel prossimo video, per quello di oggi è tutto, un saluto e alla prossima dall'Orkane, ciao ciao!